Marche da bollo false, spacciate da parcheggiatori abusivi fuori agli uffici pubblici e anche da avvocati, per le pratiche giudiziarie nei tribunali. È un vero e proprio mercato delle false marche da bollo, con base tra Napoli e Caserta e canali di distribuzione nelle altre province campane e a Roma, quello scoperto dall'indagine della Procura di Napoli Nord e dai carabinieri del comando antifalsificazione monetaria che ha portato all'emissione da parte del GIP di Napoli Nord di misure cautelari a carico di 18 indagati. In dieci quasi tutti falsari e distributori dei valori falsi sono finiti agli arresti domiciliari. Per cinque è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per i tre avvocati coinvolti è scattata l'interdizione dalla professione. Per i due legali del foro di Santa Maria Capoetere, la sospensione è stata fissata in 12 mesi, per quello del foro di Napoli Nord in sei mesi. Gli inquirenti hanno scoperto che i supporti in bianco, che venivano poi personalizzati dai falsari con sofisticate tecniche, arrivavano dalla Cina.